Ciao a tutti e bentrovati a 101 secondi Viola di oggi. Napoli-Fiorentina una partita da tripla. Napoli-Fiorentina hanno giocato il miglior calcio d'Italia in questi ultimi due anni. Sousa contro Sarri, sempre partite bellissime. Lo scorso anno sia l'andata che il ritorno sono state le partite più belle probabilmente del campionato italiano, ma anche quest'anno la gara di andata è stata bellissima. La Fiorentina se l'è sempre giocata ad armi pari, magari è stata un pizzico più sfortunata del Napoli, ma la sensazione è che anche questa sera con il ritorno di Kalinic dall'inizio, con una formazione che sta bene, perché la Fiorentina in questo momento dal punto di vista fisico sta sicuramente bene e se la può giocare. La Coppa Italia rappresenta un importante traguardo, per questo Sousa manderà in campo la formazione migliore possibile, per questo la Fiorentina ci proverà al San Paolo, in una partita assolutamente difficile, assolutamente delicata, anche perché la squadra di Sarri, come la squadra viola, ha come obiettivo quello di superare il turno, quello di arrivare in semifinale. E allora questa partita è da vivere come una grande partita, è da vivere come un grande appuntamento, è da vivere come un grande esame di maturità per questa squadra, che spesso e volentieri, quando è arrivata al momento decisivo, non è mai riuscita ad andare avanti. Questa è una grande occasione, questi sono 90 minuti da vivere in modo intenso, con una Fiorentina che sono sicuro si raggiocherà ad armi pari con il Napoli, che in questo momento forse è la squadra che gioca il miglior calcio d'Italia, anzi sicuramente ormai da un paio d'anni a questa parte. Buona partita a tutti, ma non partiamo battuti, perché questa Fiorentina può fare davvero molto bene. A domani con i 101 secondi viola. Un saluto da Marco Dell'Olio. Grazie a tutti.